Che vuoi? L'Isola dei famosi 2018 Anticipazioni, data d'inizio, cast e nuovi opinioni Steven Zuiden Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'Isola dei famosi 2018, le prime anticipazioni. Arrivano le prime anticipazioni sul cast e sulle novità della prossima edizione del Cancelletto Isola dei famosi 2018, il reality show in onda su Canale 5 che anche quest'anno ritornerà in video con una stagione nuova di Zecca, con la quale si spera che possano bissare il successo in termini di ascolti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, seguitissimo sulle reti Mediaset. Il cast della nuova edizione dell'Isola è in fase di allestimento e oggi vogliamo provare a fare un po' il punto della situazione su quello che si sa fino a questo momento del fortunato reality show. Ecco quando inizia l'Isola dei famosi 2018 e chi saranno gli opinionisti. Le anticipazioni sull'Isola dei famosi 2018 rivelano che si sonosce la data ufficiale d'inizio di questa tredicesima edizione. La prima puntata sarà trasmessa il prossimo lunedì 22 gennaio in Prime Time su Canale 5 dalle 21.30 circa. Confermato anche il nome di colui che sarà il nuovo inviato dell'Isola, dopo la parentesi Stefano Bettarini, ecco che le redimi del reality show passeranno nelle mani di Stefano De Martino, il volto noto della trasmissione Amici di Maria De Filippi, che questa volta appenderà per un po' di tempo al chiodo i panni da ballerino per indossare quelli di inviato e conduttore del daytime dell'Isola. Nelle ultime ore. Tra i nomi che sono stati già confermati vi è quello di Simona Izzo, ma anche Mara Vernier e Cristiano Malgioglio. Si era parlato anche del direttore di Libero, Vittorio Feltri. Non si esclude neppure il ritorno in scena di Alfonso Signorini, già opinionista del reality show con Mara Vernier. Occhi puntati anche sui nomi dei concorrenti ufficiali che quest'anno partiranno per cancelletto l'Isola dei famosi 2018, le anticipazioni delle ultime ore rivelano che tra i confermati vi è Francesco Monte, l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez che avrà la possibilità di rimettersi in gioco grazie a reality di Alessia Marcuzzi e ritroverà anche il suo ex cognato Stefano De Martino. E poi ancora è stato annunciato il nome di Simona Mangini e quello della cantante Bianca Azei. Ciao!